Ciao a tutte e tutti. Dieci anni esatti sono passati dalla morte di Muhammad al Gheddafi, una personalità controversa, di battuta e da alcuni anche di impianta. Per capire la Libia oggi non possiamo non far riferimento e ricordare questa figura che ha governato il paese per 42 anni. In questo breve filmato si tenterà di ripercorrere le tappe del potere di Gheddafi e di tentare di ricostruire in parte la relazione che vi era tra potere e società. Gheddafi prende il potere nel 1969 con un colpo di stato supportato dai liberi ufficiali libici, un nome che ricorda soprattutto gli ufficiali liberi egiziani che presero il potere nel 52 in Egitto e che dietro vita poi alla presidenza di Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser proprio fu un motivo di ispirazione per Gheddafi. Tanto è vero che nei primi anni del suo potere in Libia lo stesso colonnello cercò di instaurare un sistema simile a quello egiziano con nazionalizzazione delle imprese, con la costituzione dell'Unione Socialista Araba, l'unico partito nazionale permesso dal potere e poi anche con l'unione sulla scorta del panarabismo sventurato da Nasser fino a quel momento l'unione con altri paesi della regione, con lo stesso Egitto, con la Tunisia, con il Marocco e con la Siria. Tentativi che di fatto fallirono precocemente senza alcun esito positivo. Tuttavia Gheddafi dimostrò subito la sua personalità molto controversa, si distaccò sin dal 1973 dal Nasserismo, inaugurando quello che lui stesso definì la terza teoria universale, ovvero quel distaccamento dal capitalismo occidentale e dal socialismo sovietico, aprendo una nuova fase, un nuovo potere politico, basato soprattutto su un protagonismo, almeno in teoria, della popolazione. Infatti cercò sin da subito di smantellare i poteri che erano legati alla vecchia monarchia e smantellò di fatto il potere almeno in parte dei clan tribali e anche delle istituzioni religiosi, dando di fatto un'importanza particolare al basso, quindi alla popolazione. Questo fu realizzabile grazie all'istituzione, soprattutto nel 1975, dopo la pubblicazione del primo volume del Libro Verde, nel quale affrontava la soluzione al problema della democrazia, con l'istituzione dei comitati popolari. Comitati popolari che di fatto dovevano essere una consulta per il potere, con un meccanismo di decisione dal basso verso l'alto, cosa che di fatto non fu mai realizzata, poiché gli stessi comitati popolari rivoluzionari erano legati al potere centrale, quindi al potere di Gheddafi. Tale svolta dal punto di vista politico incontrò non poche opposizioni, soprattutto da parte dell'intelligenza nazionale e dalla borghesia legata alla vecchia monarchia. Questo sfociò anche in manifestazioni, soprattutto nella città di Benghazi nel 1975, che furono poi successivamente represse e messe a tacere. Tale opposizione spinse Gheddafi ad andare oltre questo potere. Nel 1977 inaugurò la Jamachiria, ovvero la Repubblica delle Masse, un sistema di potere anche qui basato sempre sui comitati rivoluzionari, ma che di fatto essi venivano facilmente aggirati e messi in tutto nelle mani del potere centrale. Potere che proprio nel 1977 era organizzato e governato da soltanto 5 persone, tutti ufficiali liberi, e tutti legati alla figura del colonnello Gheddafi. Nonostante la natura autoritaria del governo di Gheddafi, di fatto lo stesso godeva di un'ampia legittimità popolare. Questo fu soprattutto grazie ai servizi e ai benefici che il governo riusciva a garantire alla popolazione grazie agli introidi petroliferi. Benefici che si traducevano in servizi come la sanità, l'istruzione, sussidi per le classi meno ambienti. E questo, soprattutto nel decennio, tra il 74 e il 84, durante il boom petrolifero, riusciva a mantenere un certo grado di equilibrio tra il potere e la società. I problemi iniziarono a sorgere a metà degli anni 80, quando con il crollo del prezzo del petrolio e l'accusa al regime di Gheddafi di aver partecipato più o meno direttamente agli attentati aerei nell'88 in Scosa e nell'89 in Niger portarono a gravi sanzioni internazionali e all'embargo dell'ONU, che di fatto isolò la Libia. Tale congiunzione di eventi portarono poi, a partire dagli anni 90, a una serie di riforme, soprattutto in campo economico, poiché il basso prezzo del petrolio non riusciva più a garantire determinati servizi alla popolazione. Si iniziarono a creare quel sistema clientelistico, soprattutto all'interno dei vari potentati tribali del paese, che favoriva le tribù vicine al regime a scapito di quelle che si mostravano un po' più redicenti verso lo stesso. A partire dagli anni 90 iniziò un lento cambiamento della politica del regime libico, sia in termini di politica estera che di politica interna. Focalizzandoci su quest'ultima, sulla politica interna, vi furono una serie di riforme di aggiustamento strutturale dell'economia libica, riforme che puntavano soprattutto ad attrarre gli investimenti esteri, vi fu un ritorno del commercio al dettaglio in mano ai privati, fino ad allora nelle mani dello Stato. Vi furono l'ingresso di diversi istituti bancari e stranieri nel paese, così come vi furono una serie di investimenti stranieri, soprattutto sul fronte dell'energia. Tale svolta fu impersonificata, come lo fu in maniera un po' diversa in Egitto, dal figlio di Hosni Mubarak, Gamal, fu impersonificata dal figlio di Gheddafi, Seyfal Islam. Proprio a Seyfal Islam è il suo figlio. Tale figura rappresentava il nuovo volto liberista della Libia, che cercava di dare uno slancio al paese e riflettere il paese all'esterno, all'interno del mercato globale, all'interno della finanza globale e del capitalismo internazionale. Tuttavia i troidi del petrolio non raggiunsero mai più i livelli che vi furono nei dieci gloriosi della Libia, dal 1974 all'84. Tale contesto, insieme alla natura sempre più autoritaria del regime, di fatto alimentò un crescente malcontento tra la popolazione, che nel frattempo si era catalizzata per lo sviluppo di diverse anime dell'opposizione, che andavano dagli islamisti ai cosiddetti laici e che appunto iniziavano ad opporsi fermamente alle politiche del regime libico. Tale contesto naturalmente poi nel 2011, sull'onda delle cosiddette primavere arabe, non risparmiò la Libia, che ormai aveva raggiunto, nonostante il regime di Gaddafi apparisse in un qualche modo stabile rispetto agli altri paesi, tuttavia non fu messa al riparo da quell'ondata straordinaria di proteste. Seppur molti analisti internazionali, ma anche libici, abbiano gettato diversi dubbi sulla natura delle proteste del 2011, pensando che fossero eterodirette, alimentate da forze esterne alla Libia e nonostante la volontà di diverse potenze internazionali di liberarsi di questo scomodo personaggio, che si tradusse poi nell'intervento nato nel 2011, è fuori da ogni dubbio che il regime di Gaddafi abbia creato una spaccatura quasi insanabile all'interno della società, il sistema clienterare, piuttosto che l'incapacità dello Stato di garantire ai cittadini i stessi privilegi, chiamiamoli così che avevano contraddistinto la Libia tra gli anni 70 e 80, hanno portato poi alla caduta dello stesso regime. Una caduta che poi si è rivelata tragica per lo stesso colonnello che viene ucciso nell'ottobre del 2011 a Sirte per mano dei ribelli.